Sono 97 i guariti nelle ultime 24 ore da infezioni covid, quindi superano il numero dei nuovi pazienti positivi riscontrati, che sono 87, tutti in isolamento domiciliare. 34 pazienti sono di Caltanissetta, 23 sono di Gela, 15 di Niscemi. Gli altri pazienti sono distribuiti nei vari paesi della provincia, si contano ancora dei decessi. Deceduti tre pazienti, uno a Niscemi, uno a Riesi e uno a Butera. Invece per ciò che riguarda i ricoveri, anche in calo rispetto ai giorni precedenti. Infatti nel reparto di malattie infettive sono 44 rispetto ai 47 dei giorni precedenti, i ricoverati dei quali 11 sono di Caltanissetta. Il numero maggiore di ricoverati per un paese infatti Gela ne ha soltanto 10. Per i positivi in quarantena domiciliare a Caltanissetta sono 566, mentre a Gela sono 739. Intanto ci sono ancora positivi in tutti i paesi della provincia, tranne a Villalba che c'è un solo ricoverato e nessun positivo in quarantena domiciliare. Sono 2705 i positivi in tutta la provincia che sono in quarantena domiciliare e come si diceva 44 sono i ricoverati. È ancora chiuso il reparto di terapia intensiva.